Ancora truffe nella città di Agropoli, a segnalarlo attraverso i social alcuni cittadini del posto che hanno denunciato la presenza di due ragazzi con giubbino blu e cappuccio che si presenterebbero alla porta delle abitazioni in veste di addetti Enel. Hanno suonato il campanello dicendo di essere addetti Enel, ha messo in risalto una cittadina. Ho risposto di essere impegnata e che non avrei aperto e uno dei due mi ha chiesto di entrare per lasciare una scheda. Spiga, ho detto di poter riporre il tutto nella casella della posta ma sono andati via senza lasciare niente. Purtroppo non sono riuscita a vedere che auto avessero. Sono arrivati intorno alle 13.30 al Parco Testene. Secondo alcune testimonianze, diverse sono le contrade dove i due giovani si sarebbero aggirati. Non solo il Parco Testene ma anche per Via Taverne, Via Piave e nelle zone periferiche della città nel corso della mattinata di ieri. Si invita dunque a prestare la massima attenzione, in particolare gli anziani, soggetti più vulnerabili e a diffidare di questi truffatori. Nel caso qualcuno dovesse presentarsi alla propria porta è opportuno chiedere l'esibizione del tesserino di riconoscimento che hanno tutti gli addetti commerciali di Enel Energia, la società del gruppo che opera nel mercato libero dell'elettricità e del gas e tutti i tecnici di e-distribuzione, la società di Enel che gestisce la rete elettrica. Le verifiche dei controlli elettrici solitamente vengono effettuate a distanza. Solo in alcuni casi occorre una verifica del contatore direttamente sul posto, attraverso personale qualificato.